Innanzitutto fare complimenti a Ferrara perché ha dimostrato sul campo di meritare il passaggio di turno perché ha giocato sicuramente meglio di noi, perché era una condizione fisica sicuramente meglio di noi ma perché l'ha giocata anche dal punto di vista tecnico meglio di noi con percentuale a tiro altissime con i propri giocatori importanti che nei momenti cruciali delle partite, tutte le cinque partite, hanno fatto canestro creando dal palleggio, ma hanno fatto canestro e quindi noi dobbiamo analizzare sia la partita sia la serie sia quello fatto in stagione regolare dove sicuramente abbiamo prodotto tanto e fatto tantissimo poteva essere stasera il passaggio di turno un'annata sensazionale quella di affrontare i quarti ci abbiamo messo di tutto in quest'ultima partita per cercare di ribaltare però Ferrara, ripeto, con i suoi stranieri nei momenti cruciali ci ha ricacciato sempre indietro non appena noi ci avvicinavamo a 4 punti, 5 punti, Hall e Rush inventavano giocate individuali creando dal palleggio e mettendoci sempre in grande difficoltà e allungando sempre nel punteggio questi sono i play-off, Ferrara ha dimostrato di averne di più di noi sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista perfino noi sicuramente nella stagione regolare non abbiamo nulla da rimproverarci se no la malasorte nelle ultime due partite perché probabilmente con Lorenzo e Spinzelini a Treviglio sarebbe stato differente e con Casano in casa sarebbe stato differente, l'accoppiamento magari sarebbe stato con Iesi ma voglio dire soprattutto con Spizzichini e Lorenz in buone condizioni fisiche hanno giocato non in perfette condizioni fisiche specialmente Spizzichini perché non riusciva a spingere completamente però era l'unico che ci dava timing sui giochi quindi lo abbiamo tenuto in campo appunto per questo e poi anche Sherrod dopo l'infortunio, dopo due mesi di stop sta affaticando a trovare quella condizione che aveva prima dell'infortunio e essere quel giocatore dirompente e fondamentale che era prima dell'infortunio non abbiamo pagato tante piccole cose però merito va anche agli avversari e quindi diciamo anche merito di Ferrara per aver vinto la Serie e aver passato il turno